Prossimo, voglio andare a un messaggio in audio che abbiamo ricevuto da un fratello che si chiama Gino. Gino ha scritto che ultimamente ha grandi problemi, soprattutto finanziari. Le abbiamo inviato un aiuto in offerta, non è la prima volta che lo aiutiamo, però quello che lui racconta in questo messaggio, credo è una situazione che possiamo un po' applicare a tante altre persone che vivono difficoltà di questo tipo. E dopo vogliamo dare un messaggio su questo. Cioè, come possiamo assicurarci che siamo sotto la benedizione di Dio in tutti gli aspetti della nostra vita, spirituale e materiale, perché ci sono cose che dobbiamo fare, alcuni passi che dobbiamo fare. E questo si applica a tutti, compreso a me. Ci sono aspetti nella mia vita dove devo io crescere in questo. Il messaggio si chiama Desiderare il massimo da Dio, ma dandogli il minimo. Questo è il titolo. Sì. Questo è il messaggio che seguirà. Se qualcuno è così, allora consiglio di seguire questo messaggio. Sì. Vogliamo da Dio essere la sposa di Cristo, la corona, essere in cielo, vedere Gesù e non sentire, andatevi di qui, non vi conosco, non vi conosco, essere scacciati. Ma vogliamo sentire il messaggio, la mia sposa, Gesù che ci diceva. Quindi vogliamo il massimo, ma no, in questa vita gli diamo il minimo. E allora non funziona così la storia. Vero, vero. Scusa, il contadino che semina immondizia non può mietere grandi raccolti. Il contadino lazzarone che semina il meno possibile e anche niente. Questo vuoi che mieta questo qua. E ma Dio è amore. No, 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 no. Dio mi dà la super grazia. No, questa è un'invenzione dei falsi profeti. Avanti Angela. Avanti con Gino. E volevo precisare che questo messaggio che tu hai ricevuto per noi tutti non era un messaggio che hai ricevuto per Gino, perché il suo audio è arrivato dopo, dopo il tuo messaggio. Sì, esatto. Sicuramente si applica anche a lui, però Gino voleva solo ringraziare in questo audio per l'offerta che noi gli invieremo e quindi per questo ci ha inviato l'audio. Però il messaggio si applica a tutti. Sì, succede molto spesso che si invita un messaggio e poi arriva un'e-mail che è proprio la risposta, è quello. Sì, sì. Ma questo non è solo per Gino, vi assicuro, come vedrete, ascoltarete, desiderare massimo da Dio, vedrete che si applica a me, a te, a lui, lei e loro. Amen. Andiamo con il messaggio di Gino, che è un messaggio di ringraziamento e anche di testimonianza. Andiamo. Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa dello Spirito, e con tanto amore e tanto bene che ho nel cuore che vi saluto, vi abbraccio in Gesù fortissimamente. Non solo a voi della Chiesa dello Spirito in Sud America, ma tantissimo, tantissimo, specialmente a fratello Giuseppe che gli voglio tanto, ma tanto, tanto bene. Per le cose straordinarie, spiritualmente parlando, che mi ha potuto trasmettere nel cuore nella mia vita, da due anni e mezzo a questa parte. Volevo ringraziare sia voi, fratelli e sorelle della Chiesa, che tutti i fratelli che donano, perché so benissimo al mille per mille che tutto quello che fate lo fate in Gesù, per Gesù, sempre con Gesù nel cuore, con tutto il cuore, l'anima e la mente, ed è benedetta la Chiesa dello Spirito del Sud America per queste grandi opere che fate con fede e con speranza. Volevo ringraziarvi perché mi trovo in un momento assai difficile della mia vita, forse la parte più difficile che sto attraversando. Ho 61 anni, ho sempre lavorato con dedizione, con amore e con passione per la mia famiglia, per i miei figli, per mia madre e mio padre. Tanti e tanti anni fa eravamo 12 figli, 12 figli. Ci trasferimmo dalla Calabria, che è una regione del sud Italia, dalla provincia di Cosenza, in Sicilia, a Catania nel 1974. Tanti tanti bambini, fratelli. Come è fatto mio padre e mia madre? Come ha fatto mia madre soprattutto? Con quale forza? Con quale coraggio? Prende tutti quei bambini, quella piccola casetta nel paesino, chiuderla e trasferirci tutti qui a Catania, in una grande città. Come è potuto fare la mamma? Si è sposata tempo fa nel 74 a mia sorella, con mio cognato che viveva a Catania. Per questo mia sorella trasferendosi a Catania, poi piangeva dalla mattina alla sera, chiamava mia madre due o tre volte al giorno. Mia madre un bel giorno decise di chiudere quella casetta, prendere tutti quei bambini, i miei fratelli e le sorelline. L'ultimo lo aveva in braccio, Adriano si chiama, l'ultimo dei miei fratelli. Ho perso un fratello a 35 anni per un tumore alla testa, un glioblastoma. Era un fratello in Cristo, mio fratello Aldo morì a 35 anni nel 2000. Poi il signore chiamò anche mia madre dopo quattro mesi e morì per il dolore. Tragedia immane, una tragedia immane quando un genitore sopravvivò un figlio. Ma tutto questo l'ho raccontato e ve lo voglio far sapere, fratelli e sorelle delle chiese, perché c'è stato un qualcosa spiritualmente che ci ha protetto fin da quando eravamo nel paesino, quando cadeva la neve nel paesino, quando non c'era niente nella dispensa. Tutto è perché Gesù, Gesù, nel nome santo di Gesù, benediceva la nostra casa. Dandoci nostra madre con forza, coraggio, volontà, non gli mancavano niente, mia madre, ma era Gesù e il Signore che gli dava tutta questa forza. Lo sguardo del Signore era posato sulla nostra casa. Ci benediceva, non ci faceva mancare nulla, sì, il pane era duro. Mio padre non mandava i soldi dalla Germania, ma c'era lo spirito del Signore che ci benediceva, benediceva la casa, ci benediceva noi, come se ci desse quel segnale. Non vi sperate, ci sono io, ho mandato e mando i miei angeli accampati attorno a voi. Eravamo in povertà strettissima, mangiavamo pane duro, pasta due volte al giorno, la carne quando c'era era difficile a mangiarsi, ma la mangevamo una o due volte al mese. Mia madre è donna straordinaria, morì dopo quattro mesi del 2001, il 23 febbraio del 2001, quattro mesi dopo la morte di mio fratello. Il Signore io lo benedico sempre, sempre, sempre e comunque, perché è il Signore che è posato lo sguardo sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. Ho dei fratelli che si sono ravveduti, battezzati, sono degli evangelici, ho uno di questi fratelli anche pastore di una piccola chiesa. Tante volte abbiamo avuto delle discussioni, tra parentesi, delle opinioni diverse, perché lui è uno di quelli che crede che il rapimento sia prima della tribolazione. Ogni volta che ci incontriamo come se lui mi evitasse, non vuole affrontare, io cerco sempre di fargli capire. Antonio, Antonio, leggi meglio, tu per 40 anni hai dottrinato la chiesa, i tuoi fratelli e le sorelle della tua chiesa, con una dottrina non buona, non giusta, non veritiera. Il rapimento sarà dopo, va dopo la tribolazione. Antonio, ravvediti, ravvediti, leggi meglio la Bibbia. Lui quando gli dico queste cose non vuol saperle, è convinto con quel Apocalisse 3,10 della chiesa di Filadesca, è convinto che loro saranno anche rapiti prima di ogni tribolazione, sbagliando. Come dice e ci insegna il fratello Giuseppe, li troverà impreparati, il diavolo del sé li mangerà vivi col microchip, col marchio della bestia, li troverà perché riscaldano le panchine, quelle due o tre canzonette che fanno, cantano, ma non introttinano, non insegnano alla chiesa la fine dei tempi, non gli insegnano Daniele, Ezechiele, Zaccaria, Apocalisse, Daniele soprattutto, capitolo 2 che è il centro di ogni profezia come tu ci hai insegnato carissimo fratello. Volevo ringraziare tutti quanti, quelli che partecipano alla donazione affinché voi possiate aiutare i poveri, quelli che soffrono. Grazie di cuore, se è una piccola, se è una grande somma non lo so quello che sarà, ma vi ringrazio con tutto il cuore. Io ho perso il lavoro, ho la macchina, l'assicurazione è scaduta, si è pure rotta, si spegne mentre cammino, devo fare un po' di spesa, ho lavorato un paio di mesi, pochissime giornate di lavoro ho fatto pulendo gabinetto, lavandini, water, mi sono sottomesso, mi sono umiliato a fare qualsiasi tipo di lavoro e da una vita che lavoro, da una vita. Questo è il momento più difficile perché a 61 anni nessuno ti dà più la possibilità di lavorare, ma ringrazio e prego il Signore fortemente con tutto il mio cuore e dico a tutti i fratelli e le sorelle lottate, lottate in Gesù, pregate sempre Gesù, abbiate sempre il nome di Gesù Santo nel cuore, non cessiamo mai di pregare, preghiamo sempre per tutti quelli che soffrono, per tutti quelli che vogliono e cercano con tutto il cuore il nome Santo di Gesù, ho lavorato in questa pizzeria per un po' breve periodo di tempo, tutti atei, tutti atei, tutti che non credono, sono stato come una pecora in mezzo a dei lupi, tutti che pensano alla macchina, al cellulare, tutti che pensano così, ai soldi, ho cercato sempre di parlargli fino all'ultimo giorno di Gesù, ravvedetevi, il marchio della bestia sta per crescendo sulla terra, l'antichisto sta per arrivare, ci sarà grande tribolazione, ravvedetevi, cercatevi, leggete l'Evangelo, niente da fare, c'è chi ci scherza, c'è chi ci rida sopra, c'è chi dice ma tu sono tutte queste persone, non lo so, sviate, perché hanno le orecchie otturate, perché hanno la mente otturate, perché Gesù, Gesù il Signore glieli ha otturate affinché non capiscono, perché hanno voltato le spalle alla parola santa del Signore, questo è, ma come ai tempi di Noè come ci insegna la parola, mentre tutti mangiavano, prendevano moglie, marito, avvenne l'impensabile, piove per 40 giorni e per 40 notti, Gesù, Gesù il Signore parlò a Noè sette giorni prima, preparati che fra sette giorni farò piovere per 40 giorni e 40 notti, ecco questo accadrà, verrà come un lato nella notte il Signore, ci troverà molti, molti, molti impreparati, quelli che sono senza olio nella lampada saranno impreparati, come quelle chiese che riscaldano le panchine, non accorgendosi, non accorgendosi che il rapimento sarà, dopo la tribolazione dovremmo passare tante sofferenze, tante sofferenze per 1260 giorni. Vi ringrazio fratelli per quella opera grandiosa che voi fate, spaggete il seme della parola del Signore per tutto il mondo tramite Radio Blast. Volevo ringraziare per questa piccola donazione a tutti i fratelli ancora una volta, vi voglio tantissimo, ma tantissimo bene, un abbraccio fortissimo a tutti i fratelli e le sorelle che soffrono, non disperate, pregate sempre che Gesù, gli angeli del Signore sono accampati attorno a quelli che lo temono, dice la parola. Non disperate mai, non fatevi allacciare dai lacci di Satana, del diavolo, del demone che va in giro nell'aria come un leone ruggendo a cercare le anime. Il diavolo non può fare niente contro l'uomo, è solo un ingannatore, uno che racconta benzogne e bugie, non abbiate paura, pregate il Signore sempre con tutto il vostro cuore dicendo vai retro Satana, vai demone dietro, ritorna da dove sei venuto nel nome santo di Gesù, nel nome del Signore Gesù il Nazareno che è benedetto in eterno, vai vattene dalla mia vita, vattene, lascia la mia casa, lascia la mia famiglia nel nome santo di Gesù, vattene, ritorna da dove sei venuto agli inferi, nel lago di fuoco, nella genna, vattene nel nome santo di Gesù, benedici la mia casa, benedici i miei parenti, tutti i fratelli e le sorelle che chiedono, che invocano il tuo nome Signore. Ecco, quando si prega con tanta voglia, con tanto amore nel cuore, con la mente e con tutta l'anima, il Signore ascolta le parole ancora prima che noi le diciamo, ci ascolta perché sa di cosa abbiamo bisogno ancora prima che gliele chiediamo. Una pace a tutti i fratelli e le sorelle, con tanto amore, con tanto affetto, vi trasmetto qui dalla Sicilia a tutti quanti che siete sparsi nel mondo, come dice la parola nella lettera di Giacomo, capitolo 1, a tutti i fratelli del mondo, non a quelli di Israela, gli ebrei e i giudei, ma a tutti i cristiani che sono sparsi nel mondo, la parola è per tutti, a tutti i fratelli e le sorelle sui quattro lati della terra. Benedizione, grazie, amore da parte di Gesù a tutti voi, grazie, grazie di vero cuore. Ciao, un abbraccio da Gino. Grazie a te fratello caro, grazie, grazie, bellissima la tua testimonianza e il tuo entusiasmo per Gesù, grazie fratello e siamo felici di poter aiutare questo dolce fratello con un'offerta. E sono i fratelli che con le decime che mandano, eh? Sì, e l'abbiamo inviata ieri Gino, devi vedere se è arrivata, lo so che a volte le banche durano due o tre giorni per arrivare, vedi tu. Bene, gloria al Signore, amén, amén, è molto ispirante questo fratello. Sì, perché si vede che conosce la parola, che studia, che ama la parola, la predica, questo è bello. Mi aspetto benedizioni su di Lui perché è come Lui onora la parola. Amén. Gloria a Dio. Andiamo al messaggio intitolato Desiderare il massimo da Dio, ma dandogli il minimo, si può fare? No. È possibile? No. E perché no sarebbe così facile? Come? Sarebbe così facile? Egoista, scusa. Ah, egoista. Come, che so, un marito che semina al minimo con la moglie, capito? E poi pretende di essere amato. È vero. Se mia moglie mi deve amare. E guarda gli dice, sì, ma sai, se non ho un po' dello stipendio in casa, non sei l'uomo che ho sposato. Che ho sposato un uomo così. È un'attenzione ai mariti e anche ai mogli. Anche viceversa. Sì, voglio dire che questo messaggio è nato perché riceviamo spesso messaggi, per esempio, penso adesso a una persona, non faccio il nome, che da anni, da anni, ogni settimana, chiede di essere messo sulla lista di preghiera, e lo facciamo volentieri, preghiamo sempre, per rinunciare al fumo. Cioè, ogni settimana preghiera, rinunciare al fumo, non riesce a smettere di fumare. E perché in tanti anni non ha fatto progressi? Quindi, questo è un esempio, ma ci sono altri che per anni lottano con un altro problema e non vedono risultati. Eppure amano Gesù e studiano la parola? Cosa manca? Perché a volte preghiamo e non riceviamo? Vorremmo, ma non riceviamo. Insomma, io credo che capiti a molti di desiderare tutto il massimo da Dio, ma gli diamo mezzo cuore. Vogliamo essere discepoli, ricevere la corona. Vogliamo i premi più grandi del cielo, arrivare in cielo e essere benedetti come... Quelli fedeli. Ah sì. Vogliamo arrivare in cielo come la Filadelfia, la sposa di Cristo, però... Sul mondo viviamo come la Laudicea. In cielo vogliamo essere Filadelfia. Non funzionerà. Apocalisse 3, da 7 all'11 dice, alle chiese di Filadelfia scrivi, Gesù dice, vengo presto, tieni fermamente quello che hai, che nessuno ti tolga la corona. Quindi vogliamo la corona, vogliamo essere Filadelfia, però viviamo, non viviamo come è Filadelfia. E allora ci tratterà per come viviamo, non per come vogliamo. Il problema, però, è che tanti di noi non vogliono lasciare le cose del mondo, cioè le comodità e i vantaggi immediati, i carnali dell'Odicea. Come, appunto, Apocalisse 3, 14 e 17, l'angelo della chiesa dell'Odicea scrive, tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Ecco, quindi qui ci sono due chiese, infatti sono sette le chiese che il Signore usa come esempio. Ce n'è una diversa dall'altra. Ce n'è solo una che ha vinto la prova, Filadelfia. Tutti vogliono essere quella lì, grazie, non è possibile. I tuoi frutti mostreranno che chiesa siamo. Insomma, a volte il nostro problema può essere che vogliamo il massimo da Dio. C'è un po' come la spesa al supermercato, vogliamo riempire il carrello al massimo, ma spendendo il minimo. Il supermercato va bene. Nel mondo degli affari, il supermercato è incomprensibile. Vivi in mezzo agli squali, nel mondo degli affari, e devi difenderti dagli squali. Ma attenzione a non portare questa mentalità anche nel nostro cammino col Signore. Perché quello è il modo più sicuro di chiudere la porta delle benedizioni. Forse avremo certi vantaggi mondani comportandosi così, mondani, ma non con Dio. Lo vediamo nell'esempio del grande re Davide. Vogliamo andare lì, re Davide, secondo Samuele 24, 21, al 25. Lo leggeresti tu? Sì, secondo Samuele 24, 21. Poi Arauna disse, perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide rispose, per comprare da te questa aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Ecco, legge tutto il capitolo, capire il peccato di Davide, e Dio lo punì con un flagello contro tutti. E allora cosa fa? Va e chiede perdona a Dio, gli offre un olocausto. E Arauna gli dice a Davide. 22. Il re mio signore prenda e offra quel che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto. Gli attrezzi per trebbiare e i giochi dei buoi serviranno da legna. Wow. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà. Cioè te le regala, non devi pagare niente. Ma 24? Ma il re rispose ad Arauna. No. No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo. E non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Wow, ha capito qua cosa dice? Questo è il Davide, il vero Davide, non il Davide della Batsheba, eccetera. E questo è il Davide, antenato dalla genealogia del figlio dell'uomo Gesù. E allora, cerchiamo di capire cosa vuol dire qua. Non offrirò al Signore, mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Quindi attenzione a non offrire Dio una vita cristiana che non costa niente, che costa solo scaldare una panca. Però quando è sacrificio, che bisogna sacrificarsi, bisogna fare questo, quella, e no, quello, non sono chiamato. Cioè, come quando tu vai in banca e dici, senti, date un'offerta, che qui c'è una famiglia che sta muore di fame, la banca ti dice, non siamo un istituto di beneficenza, vada al governo. La banca ti dice così. Ma c'è una famiglia che muore di fame, questa è una banca. Lo stesso, quando Dio ci chiama a fare la sua opera, dice, no, non sono chiamato. E quando sarà l'ora di seguire le corone, Dio ti dirà, non sei chiamato. Questa corona non è per te. Avanti. Davide comprò l'aia e i buoi per 50 cicli d'argento. Costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo. Secondo Samuele 24, 21 a 25. Purtroppo il mondo egoista ci ha insegnato la disonestà, l'egoismo e ci comportiamo così con Dio. È come la moglie avvocatessa che va a casa e tratta il marito come un cliente. Divorziano, no? Il direttore di banca va a casa e tratta la moglie come un cliente bancario. Divorziano. La moglie non è un cliente, è tua moglie. E attenzione che il mondo ci insegna l'egoismo. Però quando siamo rinati in Cristo sta a noi allora volere cambiare ed essere come re Davide, come discepoli per vivere in Cristo. E questo perché? Perché nel regno di Dio ci sono delle leggi. E una di queste leggi è importante mettere in base a quello che si semina. Vai Galati 6. Ce l'hai Galati 6, 7, 8? Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Galati 6, 7 e 8. Ecco, questa scrittura che tutti conoscete, l'avrete memorizzata, cioè è la chiave di questo messaggio di oggi. Quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. Cerchiamo di capire questo e il tema di oggi. E noi pensiamo, sì conosco, se l'hai già letto, ma l'abbiamo capito, ci stiamo comportando di conseguenza. Vediamo che la legge di Dio del seminario di mietere è nella storia del figlio al prodigo. Cioè, il figlio al prodigo, cosa succede? Sperpara tutto, ma viene perdonato dal padre, che lo riceve amorevolmente, con una festa, il mantello, gli mette un anello. Però l'eredità adesso era tutto del fratello fedele. E ci si aspettava che il figlio al prodigo mantenesse la sua promessa. Cos'è il promesso il figlio al prodigo? Luca 15, 18, 19. Dice, padre, ho peccato? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Luca 15, 18, 19. Questa è una sfumatura che sfuggi a quelli che insegnano questa parabola. E qui la parabola di solito spicca il perdono del padre. Ma che c'è di più qua? Qui spicca anche che questo qua ha sperato tutto, che non tornasse a casa a sperare di prendersi anche l'eredità del fratello fedele. Qui dice, non è così, il figlio infedele adesso doveva essere trattato, doveva diventare fedele servo e lavorare agli ordini del figlio fedele. Infatti lui ha detto, in Luca 15, 19, padre, trattami come uno dei tuoi servi. Quindi è tornato in umiltà, il padre l'ha ricevuto. Si tornava dicendo, io torno e faccio ancora il capo. Non so se il padre lo riceveva così bene. Infatti il fratello fedele dice, oh, stiamo scherzando. Questo si è sperperato tutto con le prostitute, viene qua adesso a prendersi il resto. Il padre cosa gli risponde? Verso 31, 32. Luca 15. Il padre gli disse, figliolo, Tu sei sempre con me. Tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Cos'è che ha detto ogni cosa mia? È tua. Attenzione a cosa vi dice. Al figlio fedele. Al figlio fedele. Capite, non vai a dividere di nuovo da un'altra eredità. No, no, no. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Luca 15, 31 e 32. Quindi il padre gli dice, figlio, Tutto, tutto qui è tuo. Alla mia morte prendi tutto. Sta dicendo, tu sei, prendi il mio posto. Però che facciamo a questo fratello che si è pentito? Dice, bisognava far festa almeno, rallegrarsi, mettere un anello, un mantello, cibo e ogni tanto trattarlo con onore, vestiti speciali. L'eredità se la può dimenticare. Quando Lot è andato a vivere da Abramo, che è diventato un poveraccio, che poi è andato a vivere in una caverna, Genesi 19, non è che Abramo ha detto, vieni Lot, ti prendi un'altra metà delle possessioni. No, Abramo non l'ha più ricevuto. Quindi c'è grande gioia quando il figlio prodico che si era salvato e adesso lo veniva ricevuto, però non poteva pretendere di avere anche la parte del figlio fedele. Va bene? Quello che prima era per grazia, gratuita, adesso era per opere. Sudore, imparare la fedeltà come figlio fedele. Quindi non vogliamo sentire che i nostri fratelli che non hanno pane da mangiare, non hanno da pagare le bollette. A me, la mia famiglia, la nostra missione in casa non è mai avvenuta. Non ci è mai capitato a noi. Angie, tu sei con noi da vent'anni. Sì. C'è mai capitato che tu sappia che non avevamo soldi per le bollette, per il pane? No, no, no. Il Signore è stato sempre fedele a pagare le bollette e il pane sul tavolo. Di solito avevamo poco, proprio sufficiente per queste cose, ma mai è successo che non abbiamo pagato. Cioè, perché questo è anche testimonianza per la gente del mondo. Tu vivi in affitto e devi pagare al tuo padrone di casa se non dai soldi al tempo. È una brutta testimonianza che tipo di cristiani siamo. Quindi il Signore sa questo e ti benedice, però tu devi fare la tua parte. Molte i missionari devi essere sposti a dormire sotto un albero. Questo non c'entra niente, che Dio non provvede. Sì. Perché sai, sei di viaggio, eccetera. Sì, sì. Gesù stesso non aveva, doveva appoggiare il capo. Sì, e anche perché Dio ti insegna a vivere con poco. Sì. Quindi, se ascoltiamo la voce di Dio, ci dirà sempre cosa fare. Che decisioni prendere? Che cambiamenti fare? Quali iniziative intraprendere? Dio ci mostrerà come uscire da qualsiasi fossa. Ameno. Nel nostro corso biblico profetico diamo molta importanza su come ascoltare la voce di Dio. Una voce che dice chiaro e chiarissimo. In Galati 6,7. Guarda, ci sono tre scritture, Angelina. Guarda, mi leggi queste scritture nella lista che io vado a prendere un bicchiere di acqua per cortesia. Galati 6,7. Mi fai una cortesia. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6,7. Che poi abbiamo letto anche prima. Proverbi 11,17 e 18. L'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la sua propria carne. Lempio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Proverbi 11,17 e 18. E poi c'è Salmi 126, verso 6. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi coroni. Salmi 126, verso 6. Alleluia. Grazie, Angela. E sempre intorno al punto che mietiamo quello che seminiamo. E che facciamo del bene a noi stessi. Ma il crudele tortura la propria carne. Questo si applica alle cose spirituali, perché a volte ci chiediamo perché sono così tentato come Salvatore con il gioco d'azzardo. Perché non riesco a abbandonare certi peccati nella mia vita. Si applica alle cose spirituali. Ma anche alle cose materiali, fratelli. Perché lo so che molti cristiani oggi nel mondo soffrono perché non hanno abbastanza soldi per vivere. E perché? Come si fa per avere la benedizione anche finanziariamente? Perché la Bibbia parla anche di questo. Sì, anche come dici, Salmo 126, 6. Vai piangendo quando devi seminare. Però torni con canti di gioia. Ma quando semini, piangi. Soffri. Svegliati presto. Seminare di notte, prima che viene il sole. Però quando porti i covoni, gioisci. Canti di gioia. Amen. E tutto è sempre così. Noi siamo contro i falsi predicatori della prosperità che taglieggiano le pecore per comprarsi palazzi faraonici, jet privati. C'è un predicatore che possiede tre jet privati. Insomma, però predicare contro questi accessi non deve dare l'impressione che siamo contro la prosperità giusta dovuta di Dio. Che Dio vuol dare a ogni suo figlio. Va bene? È bene che lo menzioni, Giuseppe. Perché tu sempre predichi contro questi della prosperità. Ed è vero. Che sempre chiedono soldi, chiedono soldi, chiedono soldi. E uno si stanca perché la vita spirituale non è solo soldi. C'è tante cose da considerare. Però uno potrebbe pensare che tu sei contro i soldi. Che la Bibbia ci insegna tutti ad essere poveri perché ci sono quelli che predicano la povertà. Che la povertà è più spirituale e devi essere povero. Però tu non sei di quelli, no? No, è arrivato uno su Domenico che mi criticava perché San Francesco andava a piedi scalzi. E gli dovremmo fare anche noi. Non so se andava a piedi scalzi ma all'inverno non è una buona idea. Ti puoi ammalare, no? Eh sì. Cioè ognuno ha la sua dottrina, no? Insomma, predicare contro gli accessi dei predicatori di prosperità va bene. Però non deve dare l'impressione che Dio non vuole provvedere alle necessità dei suoi santi e dei suoi figli perché c'è anche una santa prosperità. Abramo era un uomo ricchissimo. E come sai quale è la vera prosperità, quale è la falsa prosperità? Giobbe era ricchissimo, prima e anche dopo. Bisogna distinguere, come tu dici, dalla vera e dalla falsa. E come? Dipende da come viene usata. Abramo usava le ricchezze per la gloria di Dio e Giobbe anche. Nel Vangelo c'era un centurione che era ricco, ricchissimo, che ha costruito una sinagoga. Ah sì, sì. Ma così era Matteo 8, mi pare. E hanno detto che costui è degno. È degno e Gesù ha detto ok, allora gli ha guarito il servo, un pagano. Va bene, che magari crucifigeva anche il popolo di Dio, però per ordine di Cesare. E questo qui era così ricco che ha costruito una sinagoga. Eppure Gesù l'ha benedetto, non è che l'ha maledetto. Ah tu ricco, egoista, no, no. Evidentemente usava le ricchezze per la gloria di Dio. Se usi per la gloria di Dio, va bene, puoi avere una nave grandissima, una nave di 200 metri. Se vai in giro per il mondo a portare masserizi per dare ai poveri, non c'è nessun problema. Non uno yacht di Billy Gates. Cioè c'è una differenza. Sì, sì, sì. Quindi non vogliamo dare l'impressione che Dio è contro la prosperità di uscite santi. C'è anche una santa prosperità. Quindi quando predicate contro i mercenari del falso Vangelo della prosperità, non dimenticate che c'è anche il vero Vangelo e la vera prosperità benedetta da Dio, che è quello che bisogna seguire. Noi a volte abbiamo dimenticato. Dici io. Sì, di fare il bilancio giusto. Sì, per un equilibrio. Magari, sì, io sicuramente perché mi sono un po' arrabbiato, un po' troppo. Però, infatti, deve avere una scrittura su quello, Filippesi 4, 12. Filippesi 4, 12. Qui c'è il giusto equilibrio. Questo è Paolo. Sì. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4, 12. Esatto. Quindi c'è il momento anche di essere nell'abbondanza. Il Signore vede che te lo usi per la sua gloria e te ne dà ancora di più. Sì. Bene, c'è dieci talenti, ti dà l'undicesimo. Quell'altro c'è solo uno, lo usa male e glielo toglie. Quindi Dio non è per la povertà. Sì, sì, sì. Infatti dice Paolo che Cristo è venuto per rendersi ricchi. Hai detto prima una bella cosa, che Dio vuole provvedere per i Suoi figli. Questo è un vero padre. Non significa che Dio ci farà tutti ricchi, così ricchi. No, ma Dio provvederà tutto quello che abbiamo bisogno per una buona vita, per annunciare i pecorelli, per essere un buon esempio. Quindi questo è importante, imparare dalla Bibbia. Dio vuole provvedere per noi. Amen. Amen. Il Regno di Dio, quando siamo in cielo, ci saranno ricchezze in abbondanza. Solo che dobbiamo imparare in questa vita ad essere, amministrare nel modo giusto. Come Abramo, come tutti i figli di Dio. Nel modo giusto, non adorare il denaro. Sì, sì, sì. Insomma, esiste quindi anche il vero Vangelo della vera prosperità di Dio, che è quello di seguire ed è basato sui comandamenti di Cristo, e quindi riceverne le benedizioni spirituali e materiali, come leggiamo secondo Corinthi 9,6. Ce l'hai? Secondo Corinthi 9,6, sì. Grazie. Ora dico questo, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente, mieterà altresì abbondantemente. Secondo Corinthi 9,6. Sì, quindi c'è il momento che Dio ti fa mietere abbondantemente, e un altro invece magari è egoista, vive in modo egoista, e il Signore non lo benedice. Dipende come tu semini. Dipende come semini, è sempre la gloria di Dio, poi la gloria della tua carne. E qui, se guardate questo capitolo, secondo Corinthi 9, parla di cose finanziarie. Sì, tutto sulle finanze. Sì, quindi, da non confondere con il Vangelo della prosperità. Sì, sì, sì. Quindi la legge di Dio è che bisogna investire prima di raccogliere, e la mietitura sarà solo in base a come si semina e a quello che si dà. Tu dai poco, raccogli poco. Guarda, Luca 6, Luca 6, deve andare lì. Sì. 38. Luca 6,38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6,38. Dio ha una misura per benedirci, ed è quella che usiamo noi per benedire gli altri. La misura di Dio per benedire ciascuno di noi non è necessariamente la misura di Dio, ma è la misura nostra, che Dio nella sua giustizia userà come base per benedire noi. Appunto, con la misura in cui misurate sarà rimisurato a voi. È quasi che noi decidiamo. Decidiamo, ma noi decidiamo noi. Non è Dio che decide di non benedirci. Siamo noi che decidiamo di non benedirci, perché viviamo egoisticamente, e mietteremo, sarà dopo un anno, dopo due anni, dopo quando sarà, mietteremo l'egoismo. Io ho certe cose, le ho miettute dopo cinque anni, dopo quattro anni. Sbagli che ho fatto. Non è che dopo cinque minuti, no, è troppo facile. Insomma, più di noi stessi diamo a Dio, più Dio darà a noi. Perché questa regola si applica a tutti gli aspetti della nostra vita. Più ubbidiamo alla Sua parola, più le benedizioni promesse nella parola diverranno vere. Anche se a volte Dio dovrà metterci alla prova, come con Giobbe, oppure le Israele nel deserto. Dio ci mette anche alla prova. Non è stregoneria, vai, paghi la strega, e domani quella donna lì si innamora di te. Non è così la storia. Dio ci mette alla prova. Ha provato Israele a 40 anni nel deserto. Dio ti mette alla prova. Quanto è lunga la prova? Non dipende da Dio. Però comunque funziona. Date e vi sarà dato. Sì, quella è la regola. Prima o poi ti sarà dato. È come la legge di gravità. C'è la legge da dare per ricevere. Ricevi come dai. Questo vale anche per i nostri matrimoni, al lavoro, nelle finanze che ci sono necessarie, o anche per vivere, operare per il Signore. La regola è quella. Guarda, io guardandomi indietro negli anni, vedo che il bene o il male, l'amore, l'egoismo che ho dato, alla fine, sono sempre tornati a me. Dio ci ricambia. Ma non è limitato di benedirci solo con denaro, come nel Vangelo di Prosperità. Falso Vangelo. Ma potrà benedirci e darci, a sua scelta, benedizioni migliori del denaro, come l'unità in famiglia, la salute, la protezione del diavolo, dalle sue maledizioni. Non andiamo in giro col calcolatore a vedere quanto ci ha dato Dio. E Dio ti mette anche alla prova. Quindi se non abbiamo, per pagare le bollette, evidentemente c'è qualcosa che non va. Dobbiamo fermarci, fare un esame. Cosa c'è che non va? Non è sua volontà che ci manchi il necessario. Salmo 37. Salmo 37. 25. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. Salmi 37, 25. Quindi non vogliamo sentire che in nessuna nostra chiesa gli manca il pane. Certamente siamo qui per aiutare. C'è sempre 50 euro, 100 euro, c'è sempre grazie alle decime. Però non è che possiamo vivere di accatonaggio. Va bene. Vai verso 28 e 29. Poiché il Signore ama la giustizia c'è qualcosa che stiamo facendo che non va. Come questo fratello che gioca ad alzardo. Quindi scopri nel tuo cuore, magari non giochi di alzardo, ma magari c'è un altro peccato, c'è qualcos'altro. Non siamo tutti peccatori, d'accordo? Ma ci sono dei peccati che ce li andiamo a cercare noi. La legge del raccogliere che raccogliamo in base alla semina è una legge eterna. Va bene. Come dice 2 Corinthians 9,6, chi semina scarsamente, ce l'hai lì. Ah sì, l'abbiamo letta. L'abbiamo letto questo. Chi semina scarsamente, mieterà scarsamente. In base a come seminiamo, mietiamo, d'accordo? Quindi attenzione, questa scrittura è importante. Se non stiamo mietendo, perché non abbiamo seminato? Contadino che al momento della semina si gratta lo stomaco, verrà al tempo la mietitura e non troverà niente. Cerchiamo di non essere di questi contadini. E allora se ci mancano i fondi, le finanze necessarie, prima ancora di vedere i motivi finanziari la situazione politica in Italia, prima di incolpare il governo, guardiamoci allo specchio. È facile dire questo governo, calma, calma, che ai tempi di Abramo, quando Abramo era ricchissimo, c'erano governi nel mondo che erano peggio. Dovevo andare in giro a dire che Sara, sua moglie, era la sorella, se no lo ammazzavano e la portavano via. Quindi era peggio di adesso. Quindi guardiamoci allo specchio perché le cose vanno male. Sto io seminando secondo i comandamenti di Dio? Sto io camminando nel Vangelo? Sto cercando prima il Regno di Dio, la Sua giustizia? Sto amando la mia famiglia? Sto evangelizzando? Com'è il mio cammino di preghiera con Gesù? sto meditando sulla realtà delle promesse delle scritture o sugli scoraggiamenti del maligno? Guarda, chi vuole mi mandi le risposte a queste domande e vi dirò qual è il vostro problema. Ma a quel punto, credo, l'avrete capito anche da soli. Guarda, Dio disse a Gesù a riguardo della legge di Mosè. Cioè, per noi la legge non è Mosè ma è Gesù per noi. Allora, invece, per Giosuè era la legge di Mosè. Dio disse in Giosuè capitolo 1. Sì. 7 a 9. Solo sei molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai. Non te l'ho io comandato. Sì forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare perché il Signore, il tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Giosuè 1. 7 a 9. Glorie a Dio. Bellissimo. Glorie a Dio. Il punto qual è? Mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Per oggi questo nel mondo cristianesimo mondiale sto parlando cristianesimo non si usa non è più di moda altro che mettere in pratica tutto non metterne in pratica niente quindi c'è un miracolo se sono salvati nelle chiese. Guarda Giovanni 10 il nostro Dio è abbondante verso 10 Il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza Giovanni 10 10 Il diavolo viene nella tua vita fratello nella tua famiglia nel tuo matrimonio per rubarti la pace ammazzare il matrimonio distruggere la pace coi figli Gesù dice però io vengo perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza va bene è triste sentire i fratelli non trovano lavoro non hanno soldi per questo per quell'altro cosa necessaria è triste come come chiesa Dio ci ha chiamati ad aiutare i fratelli che possiamo per grazie di Dio grazie fratelli lo facciamo però attenzione non è quella la direzione da andare perché quando Dio diede la legge a Mosè Dio gli disse a Mosè nel paese dove io ti mando nel paese che io ti prometto non ci saranno mendicanti era una delle benedizioni se avessero mantenuto la legge per cui questo messaggio di oggi è per eliminare la povertà della nostra chiesa e chiedo scusa se a volte nel mio fervore di sgridare rimproverare il falso Vangelo di prosperità se ho dato la impressione sbagliata che dobbiamo essere poveri poverissimi non avere soldi per mangiare chiedo scusa se hai dato questa impressione esiste una prosperità delle benedizioni finanziarie di Dio e il Signore vuole che tutti voi fratelli vivete con abbondanza vi serve un lavoro lo trovate vi serve uno stipendio almeno tot lo ricevete perché non perché la situazione del lavoro finanziario in Italia è buona no non è buona non sarà buona e peggiorerà ma perché Dio vi benedice io ho detto tante volte che mentre il mondo andava giù la nostra chiesa andava su non ci è mai mancato il cibo non ci è mai mancato il carburante non ci è mai mancato un auto non ci è mai mancato una casa non ci è mai mancato il cibo grazie fratelli che voi aiutate siete la mano di Dio ma è Dio dietro perché facciamo il suo lavoro nel nostro piccolo e il Signore provvede e così voglio che tutti i fratelli della nostra chiesa e volesse volesse Dio tutte le chiese ma non sarà possibile ma almeno la nostra chiesa che noi siamo responsabili che non ci sia un fratello che gli manca soldi per l'affitto soldi per comprare alla moglie un fiore per comprare ai bambini le scarpe per portare la moglie a mangiare qualcosa fuori così che una sera non cucina per portare la famiglia fuori tutti insieme a fare un pranzo fuori che tutti i vostri figli siano vestiti bene con scarpe non dico firmate no no guardate le firmo io quelli non li compriamo vi mando io la firma firmare fratello Giuseppe firma tutto va bene vi mando la firma per posta non dico quello perché noi qui compriamo anche tantissime io ho una collezione di giacche qui tutti di seconda mano però buone c'è stato uno che mi ha visto questa giacca di cuoio mi fa questo qui per fare questa giacca avranno ammazzato tre buoi non lo so comunque ho comprato tre giacche così tre giacche di cuoio comprate era in svendita nel negozio di seconda mano per 12 euro tre giacche di cuoio sì tre per 12 euro sì questo non capivo che però la maggioranza erano usate le scarpe no perché è difficile io c'ho i piedi piatti ho bisogno di scarpe abbastanza comode le scarpe purtroppo ma anche i fratelli le scarpe tante cose le compriamo di seconda mano però sono buone sì giacche camice tende andiamo in negozi di usato perché bisogna risparmiare infatti che a mio figlio gli insegno io risparmio e insegnargli il valore del denaro guardate che il denaro costa costa sudore i figli imparano a risparmiare hanno imparato infatti sì quello che credo io noi dobbiamo fare un po' di più nella nostra missione qui è insegnare più ai fratelli come entrare sotto la benedizione finanziaria di Dio perché abbiamo evitato per anni di parlare di questo perché il mondo adora i soldi alcune chiese anche e allora noi non vogliamo essere come loro e non parliamo di soldi e i fratelli non sanno come posso avere la benedizione finanziaria perché certo serve tutto il messaggio spirituale che tu dai Giuseppe è il numero uno però siamo anche carri non solo spirito però non ho insegnato abbastanza bene come generare i soldi sì se vuoi generare i soldi devi essere generoso devi dare a Dio devi essere fedele devi dare per ricevere e come questo devi enfatizzare tu e parlare non solo oggi ma anche altre volte perché dobbiamo crescere in questo ma non amare i soldi però usarli per la gloria di Dio va bene cioè non è non è difficilissimo cioè guarda vai proverbi proverbi tre e lì ti insegno come generare i soldi cioè Dio ti insegna non io l'importante è che non lo fai per motivi egoisti grazie a Dio che siamo cristiani proverbi tre sì qui ti insegno come generare i soldi per la gloria di Dio perché c'è anche quello però quando i soldi vengono generati non ti addormentare non dimenticarti da dove vengono da Dio come ha detto il Signore cos'è D'Ettronomio 8 lì ha detto quando entrerete nella nazione che io vi do non dimenticatevi del vostro Signore quando avrete abbondanza di qua e abbondanza di là non vi dimenticate del Signore quindi quando avete imparato a come uscire della maledizione dei soldi e che il Signore li genera non vi dimenticate del Signore non vi mettete a donare i soldi ce l'hai trovata proverbi tre sì proverbi tre dove i soldi sono diciamo sono una maledizione che Adamo quando è uscito Dio gli disse tu ti guadagnerai il pane che è solo da suddolo della fronte il terreno ti darà triboli eccetera quindi uscendo dal giardino dell'Ede entrava nella maledizione finanziaria per caso che il diavolo benedisse le sue banche per tanto vanno tutti all'inferno quindi che le benedica pure se vuole però tutto il mondo è sotto la maledizione finanziaria va bene e allora è vero che è vero il modo che tu usi le tue finanze mostra anche la tua fede mostra la tua condizione spirituale certo e per esempio un fratello che ha bisogno mi assicuro che gli mandiamo cento euro cinquanta centocinquanta settantacinque dipende dalla situazione e abbiamo abbiamo una borsa lì per regalare i soldi e quando c'è diamo e so che se non aiutiamo i fratelli il Signore non benedirà a noi va bene e allora verso 7 Proverbi 3,7 fino al 10 allora se qualcuno vuole sapere come generare i soldi per la gloria di Dio qui c'è il segreto io non ho passato molto tempo su queste scritture è vero diciamo che la prima volta che le tiro fuori perché il diavolo ha fatto ha sporcato l'acqua no il Vangelo di Prosperità sono lì adorare i soldi e io per questo che sono andato all'estremo opposto adesso forse dovremmo metterci un po' in mezzo perché ci sono dei fratelli che non sanno come generare come sottrassere le maledizioni finanziarie ed essere benedetti anche nelle finanze leggiamo Proverbi 3,7 non ti stimare saggio da te stesso temi il Signore e allontanati dal male quindi non credere che nel mondo tu potrai fare soldi nel mondo perché se fai soldi alla maniera del mondo cioè li usi in modo egoistico e allora stai attento perché poi il Signore non ti benedice eternamente ti presenta davanti a Lui in cielo e ti sei stimato saggio e non ci sono benedizioni in cielo avanti questo sarà seguite questa regola uscita dalla maledizione finanziaria praticamente non dovrete non dovrete più preoccuparvi dei soldi come i figli del diavolo ma il Signore li farà crescere e funzionato con me funzionerà con voi quindi qui per esempio dove dice il verso 9 onorare il Signore con i tuoi beni cioè primo onore al Signore con i tuoi beni cioè cose materiali le primizie di ogni tua rendita le primizie cosa sono le decime nella Bibbia erano le decime nel Nuovo Testamento naturalmente si vendevano le case Atti capitolo 2 Atti capitolo 4 vendevano le case le davano alle chiese nel Vecchio Testamento c'era la decima e oltre alla decima c'erano regali durante l'anno tre volte durante l'anno uno regalava il Tempio extra sopra le decime d'accordo e allora praticamente devi onorare il Signore non solo con le preghiere con le cerimonie eccetera ma anche con le primizie di ogni rendita la primizia è tu per esempio che so vendi una casa vendi una macchina vendi una bicicletta eccetera qualunque possessione che non hai decimato la devi come Abramo si è fermato ha decimato tutta la tua possessione e gliela ha dato a Melchiserec quindi assicurarsi che se vogliamo che le ricchezze nostre possessioni nostre siano benedette dovete decimarle dalle al Signore a qualunque chiesa appartenete non sto parlando solo della mia chiesa qualunque chiesa esecattolica protestante dovete decimare tutto e dare alla vostra chiesa e quello lì che avete decimato sarà benedetto infatti dopo che Abramo ha decimato tutto è stato benedetto ancora molto di più d'accordo? quindi questo è il segreto come uscire dai problemi finanziari alla maniera di Dio la maniera del diavolo è prendo prendo non do niente a nessuno si d'accordo e diventerai ricco come Billy Gates ma non sono ricchezze benedette sono maledette che quando Billy Gates si presenta davanti ai giudizi di Dio dirà e allora questa aveva una moglie che si chiamava Melinda Billy Gates l'ha divorziata perché lei voleva sempre dare in beneficenza l'ha divorziata questo qua è il più ricco del mondo e non gli bastano mai le riccheze ma insomma quando ti metteranno nella bara digli che ti riempiono la bocca di soldi se vuoi e invece la moglie che apparentemente era che dava sempre in beneficenza l'ha divorziata lo stesso ha fatto quando dall'Amazon ha divorziato la moglie che sembrava una pecorella adesso si gira con i suoi otti pieni di prostitute eccetera comunque comunque Dio è il giudice allora il fatto è che tutti dobbiamo fare la nostra parte per metterci sotto le benedizioni finanziarie di Dio e questo facendo la nostra parte seguendo le istruzioni che Dio non ci fa mancare nella sua parola perché è dando che si riceve amando che si è amati dobbiamo fare la nostra parte benedire per essere benedetti come faccio a benedire Dio? benedici il fratello benedici il fratello guardiamoci dalla tirchieria che non viene da Dio e che ferma le sue benedizioni quindi onorare Dio con le primizie delle nostre entrate primizie prima mette da parte la decima e poi per il mondo e questo devi farlo tutti i giorni se non lo fai tutti i giorni possibilmente ogni giorno si fa questo? ogni giorno si fa questo la decima si mette da parte ogni giorno? ogni giorno si perché oggi vendi questo domani vendi qual'altro se per una settimana non vendi niente c'è niente si mette da parte però se non la mette da parte tutti i giorni nella Bibbia dice ogni settimana in primo corinzi 16 verso 1 e 2 vuoi leggerlo? primo corinzi 16 1 e 2 1 quanto poi alla colletta per i santi come ho ordinato alle chiese di Galazia così fate anche voi ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa agli affinché quando verrò non ci siano più colette da fare primo corinzi 16 1 e 2 quindi io l'ho fatto io l'ho sempre fatto ogni giorno perché poi mi dimenticavo e allora per non sbagliare io ci ho messo da parte almeno carta e penna ogni settimana e poi ogni mese si manda la tua organizzazione chiesa cattolica protestante la chiesa dello spirito il radio blast quello che è scegli la chiesa che appartiene la regola è quella se poi il pastore lo usa per comprarsi una ferrari o per comprarsi un aereojet da 50 milioni di dollari se la vedrà con Dio tu credevi che la chiesa era vera hai dato quello invece non era vera se la vedrà col signore però te ti benedirà come se fosse stato fedele il pastore perché tu l'hai data a Dio va bene allora Dio non vuole che noi i suoi figli siamo mendicanti ci vuole benedire in tutto però questo non c'entra col falso Vangelo dei mercenari predicatori che adorano l'idolo del denaro e questo è il fatto che io non ne ho mai parlato sì perché non vogliamo parlare di soldi e anche qui in privato nella nostra missione quando siamo tra di noi non parliamo mai di soldi non contiamo soldi perché soldi sono solo uno strumento non sono niente non so mai devo chiedere ce le compre una macchina usata quanto abbiamo io non lo so sì sì però sai sto pensando adesso che in Luca 21 c'era questa vedova che metteva dei spiccioli nel tempio come offerta nel tempio e Gesù stava lì con i discepoli alla porta e guardava ciascuno che passava quanto mettevano quanto mettevano guarda quello là è ricco ha messo molta moneta sì sì e commentavano ha messo poco sì sì io non farei mai una cosa del genere perché mi vergogno però Gesù guardava ognuno quanto mette come offerta quindi per Gesù è importante anche questo aspetto perché mostra chi sei mostra se sei egoista generoso mostra la tua fede mostra il tuo cuore sì mostra capito mostra cosa c'è dentro nel tuo cuore cioè quelli riconi mettevano monete d'oro per farsi vedere ha detto Gesù e lei la donna ha messo tre spiccioli da maniera che era vestita ha capito che quello gli sarebbero serviti per un pochettino più di pane una vedova ma vedono bambini e noi abbiamo un annuncio sulla radio sorelle con bambini scrivete se avete bisogno vi mandiamo un'offerta abbiamo qualcosa per voi ce l'abbiamo sempre condividiamo quello che abbiamo scrivete sorelle con bambini perché i fratelli sono fedeli quelle decine quelli fedeli quelli che sono fedeli quindi insomma questo non c'entra niente col falso vangelo dei mercenari predicatori predicatori che pensano che non possono servire Dio senza aerei jet auto nuove costosi edifici religiosi così via cioè sto parlando del falso dei falsi predicatori però voglio dire questo un po' a tutte le chiese va bene che Dio vuole benedire tutte le chiese cristiane e cominciare quale cristiane si danno a fare se la chiesa a cui apparteniamo è una chiesa vera qualsiasi denominazione sia cattolica o protestante allora le scritture ci insegnano di sostenerla come faremmo per il regno di Dio perché noi io e te rappresentiamo il regno di Dio ogni credente rappresenta il regno di Dio ognuno di noi se è nato di nuovo fa parte del corpo di Cristo va bene non vi perdete non vi perdete un bicchiere di acqua del cattolicesimo del protestantesimo queste sono sciocchezze che il corpo di Cristo quindi qualunque sia la chiesa della quale facciamo parte quella chiesa è il nostro inizio della fratellanza celeste eterna del regno di Dio non è fortissimo? bello questo è bello non è forte? sì bellissimo è l'inizio del nostro regno di Dio certo il regno di Dio lo vediamo nelle sette chiese dell'apocalisse va bene il regno di Dio c'è quella dell'audicea la chiesa del vomito non dice che va all'inferno dice che Gesù la vomita quindi in cielo evidentemente c'è un cesso c'è un secchio dove il Signore sto parlando di simboli va e si fa vomita e dice porta via il secchio sto parlando simbolicamente però è scritto l'apocalisse 314 insomma sto parlando di una chiesa che si è dimostrata vera sostenete la chiesa vera non deve essere solo la mia per l'amor di Dio va bene quindi compreso sostenerla con le decime per poter raggiungere percorrere le perdute e questo è comandato nella parola vedere primo corinzi 9 secondo corinzi 9 abbiamo letto prima primo corinzi 16 1 e 2 la colletta per i santi ogni giorno ogni primo giorno della settimana ciascuno mette da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa quindi c'è anche la prosperità c'è anche il Vangelo la prosperità di Dio non è solo falso affinché quando verranno ci siano più collette da fare insomma ci deve essere un motivo perché ci sono dei fratelli che stanno facendo la fame e a me non mi sta bene questo perché se siamo una chiesa vera non ci saranno mendicanti tra di noi li aiuteremo siamo chiamati a aiutarli ma non è questo però la volontà di Dio la colpa non è dalla parte di Dio se siamo abbiamo problemi finanziari le sue benedizioni sono separate va bene dalla dalle maledizioni del diavolo e allora occhio sulle benedizioni e non si sta attraversando un periodo difficile è il diavolo che lo sta facendo però noi stiamo sbagliando in qualcosa perché se noi obbediamo i comandamenti e siamo fedeli a camminare nei comandamenti e allora l'obbedienza ai comandamenti garantito al 100% generano benedizioni di ogni tipo ti servono finanze arriveranno miracolosamente persino i figli del diavolo vengono a lotto e noi non dobbiamo essere benedetti da Dio certamente che siamo e saremo benedetti credo che lo sbaglio che facciamo a volte è che pensiamo che Dio ha da fare solo con cose spirituali nella nostra vita cioè solo aspetto spirituale ma non è vero dobbiamo lasciare Dio a entrare nelle nostre finanze in modo che lui possa operare anche nelle finanze sì se escludiamo le finanze dal nostro cammino con il Signore allora saremo sotto maledizione finanziaria cioè questi fratelli che hanno problemi finanziari non avevano incluso Dio nelle finanze come le includi comincia a dargli la decima comincia a dargli il suo che ha comandato nel Nuo Testamento si vendevano le case le davano alle chiese cosa nel Vecchio Testamento la decima è il minimo ora non escludiamo Dio dalle finanze se no saremo nei problemi se Dio non fa parte delle nostre finanze come potremmo sperare che Lui opere in nostro favore se lo escludiamo sì proverbi 11 come è scritto proverbi 11 25 ah l'abbiamo letto sì sì chi è benefico anche proverbi 3 devi andare chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi ha naffia sarà egli pure annaffiato questo è bene proverbi 11 25 è bene rileggere questo qui bello proverbi 3 da 7 al 10 proverbi 3 da 7 al 10 bene questo qui te lo posso dire a memoria ah l'abbiamo letto ah l'abbiamo letto anche questo sì 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 questo qui ce l'ho qui perché sono alcune scritture speciali che mi sono appuntato ma sono molto importanti di onorare il Signore perché se non onoriamo Dio con le nostre primizie con le nostre fedeli decime come possiamo sperare che Lui onori noi Dio ci onora noi se noi non onoriamo Lui no cioè onora Dio con le tue primizie quindi quello spetta Dio perché i Leviti non avevano i Leviti non avevano un territorio in Israele avevano niente venivano sostenute dalle decime quando Israele non davano le decime i Leviti morirono di fame e loro dovevano seguire la legge leggere la Bibbia dovevano e quelli non gli davano le decime insomma Israele si è persa così per l'egoismo oggi i Leviti chi sono? noi i missionari che a tempo pieno siamo qui a confidare in Dio con la manna e la manna viene però e allora noi i Leviti veniamo sostenuti da decime tu non puoi andare al Tempio c'è un comandamento nel Teoronomio che dice non ti presenterai al Tempio di Dio a mani vuote era proibito andare al Tempio senza portare qualcosa quindi non puoi andare in qualunque chiesa vai protestante cattolica a mani vuote infatti ogni chiesa che vai deve dare l'offerta si guarda andiamo prima a Samuel 2 primo Samuele 2 30 perciò così dice il Signore il Dio di Israele io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre ma ora il Signore dice lungi da me tale cosa perché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati secondo Samuele no primo Samuele 2 30 quindi qui Dio sta dicendo io avevo dichiarato promesso che la tua casa di tuo padre sarebbero state il mio servizio per sempre ma ora ecco qui il Signore cambia la legge cambia la sua promessa dice la promessa vale finché noi facciamo la nostra parte capito e però adesso dice il Signore lungi da me adesso io onoro che mi onora che mi disprezza sarà disprezzato non possiamo addormentarci che noi siamo salvati noi siamo così noi siamo Filadelfia attenzione che se tu non onori il Signore Lui non onora te non sta dicendo all'inferno a bruciare no sta dicendo l'onore sta dicendo che se non mi onori dice il Signore diventerai l'odicea insomma nella mia vita di piccolo missionario io ho imparato presto l'importanza di essere fedele con le decime se volevo essere benedetto fedelmente dovevo essere fedele io seminare la fedeltà per mettere la fedeltà a volte devo vendere un'auto vendere una possessione una roulotte dicevo prima e dovevo stare attento che il diavolo come con Anania in Atti capitolo 5 mi tentava di risparmiare su quello che dovevo a Dio la sua decima al suo tempio per la sua opera battaglie che dovevo vincere mensilmente poi alla fine ci ho fatto abitudine e basta si si dà e basta prima Dio cioè senza pensare fallo senza pensare fallo senza pensare perché non è se deve essere tentato però vedevo che al momento del bisogno arrivavano le benedizioni grazie Gesù sapevo che da quella fedeltà dipendevano le benedizioni finanziarie sapevo che vi erano molti credenti che non decimavano però potevo anche vedere la loro mancanza di relazione personale con Gesù i loro problemi nel matrimonio in famiglia innanzitutto i problemi nella loro mancanza di comunione col Signore e questo mi ha sempre messo un grande timore se non onoriamo Dio con le primizie potremo anche mietere cose del mondo e grazie al mondo però non mieteremo le benedizioni di Dio quelle vere e attenzione le benedizioni non saranno sempre in denaro ma saranno benedizioni riguardo la nostra famiglia cose spirituali il nostro cammino col Signore cose eterne guarda mi ricordo una storia c'era una volta un senza tetto che scoprì il segreto di essere benedetto da Dio un senza tetto questo dormiva su una panca questo senza tetto e aveva solo un paio di ciabatte ma non scarpe un giorno Dio manda un credente cristiano e questo gli dà un messaggio e gli dice sai mi dispiace che non hai scarpe vorrei darti i soldi perché tu ti compri un paio di scarpe e questo prestò attenzione molto interessante e continua cioè il credente sapeva che senza tetto sarebbe ritornata la sua povertà e che lui il cristiano non poteva aiutarla tutti i giorni e allora decise di insegnargli la via maestra per uscirne dalle maledizioni finanziarie e gli disse gli confidò questo gli disse ti comprerò le scarpe ma una condizione che tu innaffi innaffiare questa benedizione finanziaria sì che crescano delle altre benedizioni e che tu non debba sempre essere nel bisogno e gli disse al medicante devi spezzare la maledizione finanziaria e Gesù può farlo e il medicante disse meraviglioso sono pronto cosa devo fare e il cristiano gli dice ogni volta che Dio ti dà un fiore di aiuto lo devi innaffiare perché è dando che si riceve proverbio 11 e 25 parla di questo abbiamo detto prima che chi è amorevole e benefico è nell'abbondanza ora e dice chi annaffia sarà pure annaffiato ma come si fa annaffiare come si fa annaffiare allora il cristiano gli dice comincia oggi a decimare la mia piccola offerta che ti do per le scarpe se sarai fedele a farlo ogni giorno vedrai Dio sarà fedele alla sua parola lui proverà la tua fede e dopo averti messo alla prova Dio comincerà a benedirti se sarai sincero e fedele il giovane medicante viene toccato nel cuore e si ripromette che da allora in poi sarebbe stato fedele e metta da parte ogni giorno la decima per ogni cosa ricevuta e darla a Dio mensilmente senza farlo l'uomo fu fedele mantenne il suo patto con il Signore Dio lo benedì e presto non fu più mendicante ma divenne un benestante gloria a Dio gloria al Signore appunto come dice a Proverbi 3 9 onora il Signore con le primizie di ogni tua rendita amén i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza grazie i tuoi tini traboccheranno dimosto amén grande promessa le sue benedizioni traboccheranno amén amén gloria a Dio la mia testimonianza che io ho sempre messo da parte la decima tuttora lo faccio e ora siamo in grado di aiutare anche altri se la nostra Chiesa è vera Dio ci chiama la fedeltà di sostenerla perché è il Regno di Dio che sosteniamo non solo sostenere in modo passivo preghiere religiose ma anche in modo tangibile e fedele affinché la Chiesa possa continuare a raggiungere le anime con la salvezza grazie Gesù e se non siamo in grado uno chiederà se non siamo in grado di dare niente guarda Dio è equo dico questo la decima è divinamente equilibrata se abbiamo molto poco la decima sarà poco molto piccola sì se invece ci fosse tanto da dare di decima allora vuol dire che Dio ha scelto di benedirci in abbondanza e quindi anche la somma che ci rimane che ci rimarrebbe il 90% cioè sarà alta le finanze non sono escluse dalla fedeltà fedeltà che dobbiamo imparare su questa terra sì da entrare nel Regno di Dio fedeli in tutto la domanda è fratelli e concludo Dio sta facendo parte delle nostre finanze lo abbiamo invitato a partecipare come lo inviti inviti Dio dandogli che Gesù dice datevi sarà data buona misura pigiata abbondante la misura che date sarà rimisurata a voi se Dio non entra nelle nostre finanze queste apparterranno al mondo e avranno a che fare solo con il mondo cioè al di fuori del campo e le benedizioni di Dio e Dio non potrà operare a nostro favore perché ci siamo separati da Lui finanziariamente tempo fa ho avuto a che fare con famiglie consigliarle famiglie che avevano grandi lite di visione motivi di reddita appunto queste famiglie operavano più di una famiglia al di fuori del campo di Dio gloria a Dio grazie Gesù alleluia insomma Dio potrà benedire i fedeli cento mille volte di più perché Dio benedice anche in abbondanza non come una specie di Dio abbendata Dio non è una Dio abbendata che getta la tua benedizione a casaccio senza regole né leggi non è così Dio ha una legge per ogni cosa vediamo nella parabola dei talenti Matteo 25 che il Signore mostra che ciascuno sarà ripagato ciascuno sarà benedetto strettamente sulla base della propria fedeltà verso il Signore o tristemente della sua infedeltà con la quale aveva seminato Galati 6 7 8 Angela primo corinzi 4 vi resti una scrittura si naturalmente primo corinzi 4 4 si che parla parla dell'importanza della nostra fedeltà verso 2 del resto quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele primo corinzi 4 2 allora cos'è che richiede Dio di essere fedeli e questi sono amministratori cioè nelle cose pratiche materiali materiali cerchiamo di essere troppo spiritualizzati che la Bibbia la maggioranza è tutta pratica la fedeltà è la base del vero credente per ricevere le benedizioni spirituali di Dio spirituali e materiali guarda vai numeri 12 numeri ecco sì il mio servo verso 7 il mio servo Mosè il mio servo Mosè che è fedele in tutta la mia casa numeri 12 7 capito signora vuole che siamo fedeli in tutta la nostra casa amè amè e saremo benedetti in tutta la nostra casa vediamo Giuseppe che fu fedele nella casa di Potifar e il signor lo fece prosperare come schiavo fu fedele in prigione e il signor lo fece prosperare in prigione ovunque andava diventava direttore questo qua casa di Potifar nella prigione fu fedele col faraone e divenne il primo ministro egiziano dall'Egitto il primo ministro il governatore divenne Dio ci chiama ad essere fedeli primo corinzi 4 2 si richiede agli amministratori che ciascuno si è trovato fedele Matteo 25 21 il suo padrone gli disse va bene servo buono e fedele sei stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo signore Matteo 25 21 allora vogliamo sentire queste parole si che vogliamo si ma non possiamo vivere qui egoisti qua rubare Dio la decima così che ci compriamo una macchina più grande secondo noi e poi arriviamo al regno di Dio adesso io non ti ho onorato le mie primizie adesso onorami tu però non funziona così Luca 16 10 Luca 16 non funziona perché chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi Luca 16 10 fratello se siamo mendicanti su una una panchina al parco e riceviamo un euro di di accattonaggio al giorno se non mettiamo da parte quei 10 centesimi non riusciremo a decimare il milione di dollari domani o quello che sarà va bene devi essere fedele nel poco e poi ogni giorno ogni giorno e il Signore ti benedice così fece Giuseppe da Potiphar nella prigione in Egitto e Giuseppe è uno dei più grandi esempi di Gesù in tutta la Bibbia Amen Grazie Gesù posso leggerti alcuni alcuni messaggi che i fratelli stanno inviando mentre tu insegnavi su questo soggetto loro inviano testimonianze di quello che loro vivono in riguardo a questo messaggio insomma l'insegnamento qui fratelli perdonatemi che diciamo in un certo senso un po' fallito che negli anni non ho insegnato queste cose io le conoscevo queste cose di essere fedele e perché ero così scocciato e così questi del Vangelo della prosperità imbroglioni eccetera che mi sono un po' sbilanciato però c'è anche la prosperità di Dio dice così in Genesi che Giuseppe era molto prospero il Signore lo fece prosperare da Potiphar e in prigione prosperava Giuseppe questo perché era fedele nelle cose materiali e pratiche era fedele a pulire quel cesso a trasportare i secchi dal cesso nella svuotale dove era fedele i cessi erano puliti il direttore vedeva caspita questo qui ho bisogno questo è più fedele di me lo fece il direttore dei cessi direttore della prigione va bene e Giuseppe prosperava e allora fratelli siamo fedeli nelle piccole cose e vedrete che sarete fuori dalle maledizioni finanziarie il Signore vi mostrerà giorno per giorno come innaffiare i fiori dalle benedizioni anche finanziarie e cresceranno nello spirito va bene fratelli amén ok fatemi sapere mettete in pratica queste cose poi mi iscrivete mi fate sapere le vittorie le benedizioni e non lasciatevi fermare del diavolo che dice oh guarda qui lascia perdere tu dai e ti sarà dato ma prima devi dare a Dio onorarlo con le tue primizie altrimenti lui non onora noi amén Angela dice Salvatore fratelli è proprio vero quello che dite io l'ho sperimentato su di me non mi sono lasciato mai abbattere dai vari problemi che ci sono sempre stati ma mi sono rimboccati le maniche ho confidato nel Signore e lui si è fatto trovare gloria a Dio grazie Salvatore una piccola conferma ma è così è così guarda io sono 50 anni 50 anni a maggio che sto sperimentando la vita del piccolo missionario ho sempre avuto terrore di non mettere Gesù al primo posto anche finanziariamente non ti chiede tanto se hai poco ti chiede 10% del poco sì se hai tanto è perché ti sta benedicendo tanto ma se vuoi continuare ad essere benedetto nel tanto non essere infedele nel tanto sii fedele Tiziana cari fratelli confermo con la mia esperienza il messaggio di fratello Giuseppe mio marito e io abbiamo cercato negli anni passati nel timore di Dio di mettere al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia non pensando non pensando al nostro futuro e quindi non pensando a come mettere da parte dei soldi ma provvedendo ai vari bisogni legati all'avanzamento del regno di Dio gloria a Dio quando ci siamo ritrovati da soli non avendo più i nostri genitori non avendo nulla né casa né altro Dio ci ha provveduto un lavoro ad entrambi provvedendo ad ogni nostro bisogno ed oggi non manchiamo di nulla Dio si è preso cura di noi gloria a Dio vi amiamo di un grande amore Tiziana gloria a Dio come vedo Elia che va dalla vedova di Sarepta e gli dice cosa fai dice ma sto andando a morire in che modo ma adesso vado lì faccio un po' di pane faccio un po' di pane mangiamo e io e mio figlio moriremo dice ah sì va bene portami un po' d'acqua certo ah già che ci sei portami anche un panino un po' di mangiare guarda c'è solo ti ho detto un po' di farina per me e mio figlio mangiamo e moriamo e Elia gli dice prima dallo a me prima dallo a me e poi il Signore ti benedice cioè Elia le metteva alla prova per vedere se era la donna giusta no cioè immagina vada una donna e la vedo che dice mangiamo questa e moriamo e dice alt prima dallo a me però la donna vide che c'era qualcosa a che fare con Dio e accettò e il Signore la benedì perché onorò Dio attraverso Elia e diede a lui prima tutto quello che aveva un pezzo di pane e per tre anni e mezzo il Signore gli moltiplicò la farina e l'olio sì amè dando prima a Dio una specie di decima dando prima a Dio in questo modo si sottrasse alla maledizione di mancanze di cibo finanziaria eccetera amè gloria a Dio prossimo da parte di Maria e faccio una parentesi Maria è la sorella di Jonathan quel giovane che avete sentito la settimana scorsa che era rinchiuso a Londra in un istituto mentale che adesso è fuori e disperatamente chiedeva aiuto e ringrazio i fratelli che hanno pregato perché è fuori e dopo due giorni di quell'audio che voi avete sentito lo hanno liberato ed è stato un miracolo e grazie fratelli amè voglio ringraziare voi che avete pregato e voglio benedire la famiglia di Jonathan Maria e Graziella che come leonesse hanno combattuto per farlo uscire anche il resto Tony il fratello il resto della famiglia hanno veramente messo tutte le forze per liberarlo e hanno vinto e hanno vinto però l'hanno fatto anche nello spirito cioè nel modo giusto con Dio in consiglio che fratelli ci hanno scritto diverse volte ho chiesto preghiera o io ho chiesto a tutti i fratelli del mondo di pregare ringraziamo Dio per questa vittoria bellissimo il Signore è buono grazie fratelli è bello avere una chiesa che si può contare e riguardo al messaggio di oggi Maria ha scritto pochi minuti fa dicendo cari fratelli è proprio veritiero ciò che state dicendo secondo la parola è applicato benissimo ho una testimonianza fresca fresca di settimana negli ultimi 40 giorni ho potuto lavorare pochissimo sia per via del periodo sia per via degli impegni personali che conoscete l'arrivo di un figlio e la riorganizzazione familiare nonostante il poco lavoro sono riuscita a mettere da parte i soldi dell'affitto del locale in cui lavoro ed ero soddisfatta di avere il necessario per non andare sotto ma qualche giorno fa sull'applicazione del telefono ricevo la bolletta di luce del negozio che avevo dimenticato che dovesse arrivarmi e mi sono preoccupata per i fondi ma non più di tanto dopo qualche giorno dopo aver comprato il pane mi sono resa conto di avere in portafoglio diverse banconote ed ho avuto la curiosità di contarle pensando alla bolletta cari fratelli nonostante credevo di non avere abbastanza soldi per via del pochissimo lavoro a mia insaputa i soldi che ho contati erano maggiori di quelli del costo della bolletta gloria a Dio appena ho finito di contarli ho chiuso gli occhi e ho ringraziato Gesù gloria a Dio che sapeva più di me quanto mi occorreva per affrontare le spese come dite voi secondo la parola infatti quando compiamo anche al di fuori del lavoro la volontà di Dio il Signore non abbandona i Suoi servi diversamente in passato mi è capitato di non riuscire ad affrontare le spese e anche in quella circostanza ho compreso che non avevo usato bene secondo la volontà del Signore il tempo che ho avuto un abbraccio fratelli vi amo anche noi anche noi grazie Maria e voglio dire Maria è fedele perché lei è parte della nostra chiesa ed è fedele con la sua famiglia ad inviare offerte quindi vedo la benedizione di Dio su di loro si si vedono le benedizioni il Signore non ha mai fallito nessuno potrà mai accusare Dio che io ho dato a Dio più che l'ho dato a me non è possibile non puoi dare a Dio di più di quello che vi date per parte dovrebbe infrangere tutta la Bibbia però abbiate fede fratelli grazie Gesù nel Signore poi c'è Mattia che ha scritto fratelli che Dio vi benedica che è Mattia? Mattia Mattia volevo aggiungere una cosa se mi è permesso a tutti i fratelli il segreto è far entrare il Signore in tutto famiglia finanze lavoro amicizie in altre parole non deve restare una parte dove il Signore non sia entrato e vedrete la mano del Signore Dio vi benedica bravo fratello Giuseppe hai fatto bene a sottolineare questo punto lo Spirito Santo ti ha indicato la strada Mattia sì è stato lo Spirito Santo che mi ha mostrato questi fratelli che soffrono che non hanno abbastanza soldi per sopravvivere e allora ho fatto un esame di coscienza ma guarda qui che questi pelandroni dei pancioli di prosperità mi mettono paura a predicare a favore della prosperità vera di Dio e allora ho tolto gli indugi e adesso glielo sto suonando al diavolo siamo fuori dalle maledizioni finanziarie amén amén nel nome di Gesù Cristo tutti fratelli amén poi ci sono altri fratelli che hanno scritto e vi ringrazio non riesco a leggerli tutti c'è Dario che dice c'è sempre qualcosa da dare per il regno del Signore il resto sono scuse e lui dice preferirei morire che non dare la decima anzi mi pento di non averlo aver fatto prima ma finché vivrò almeno una decima di ogni miglior rendita o futuro lavoro possiamo darla perché è un segno di amore per i fratelli un segno di fedeltà anche per tutti quanti anche noi tutti e poi c'è Stefania che dice il nostro modo di dare a Dio Stefania dice confermiamo anche noi abbiamo sempre messo Gesù al primo posto cercando il suo regno e lui ci ha sempre aiutato lui è sempre fedele vi amiamo gloria a Dio c'è Marisa che dice da 35 anni abbiamo sempre dato decime e offerte ma da dicembre mio marito mi impedisce di darla io non sono d'accordo voi cosa dite sarei nella ribellione se invece continuerei a dare al Signore il 10% dice Marisa e questa è una cosa che deve pregare lei secondo la sua fede studia la parola e vedi la volontà del marito la volontà di Dio e vedi tu è come se il marito ti dice ti proibisce di evangelizzare e decidi tu quale marito vuoi ascoltare che ci sono cose spirituali che il marito non è il marito padrone cioè la moglie ha diritti cioè nella casa la moglie ha almeno il 50% di tutto quello che succede appartiene alla moglie quindi la moglie non è una schiavetta con la catena al collo ci sono cose spirituali che i mariti hanno i loro capricci non so uno beve con l'altra televisione quell'altro c'ha uno sport e la moglie è cristiana è dalla decima quindi in base alla tua fede sorella chiedi al Signore io certe cose non posso dirle perché solo voi conoscete tutti i dettagli della situazione dovete decidere e ogni scelta per il Signore a volte può comportare persecuzioni e sacrifici Amen grazie Signore allora facciamo una pausa e poi andiamo piano piano verso le richieste di preghiera e abbiamo anche una testimonianza però ascoltiamo prima il canto di Maria Sportelli Crediamo in Dio Dicono che questa montagna non si muove e le catene non si spezzano loro non sanno chi sei tu nel tuo nome c'è potere dicono non c'è via d'uscita che la marea non si calmerà non sanno ciò che puoi far tu nel tuo nome c'è potere nel tuo nome c'è potere niente è possibile indistruttibile crediamo in Dio crediamo in Dio sì miracoli tu fa dall'imposibile crediamo in Dio crediamo in Dio sì e la speranza in noi non muore la tomba è vuota non sei lì non c'è via d'uscita non c'è via d'uscita crediamo in Dio crediamo in Dio miracoli tu fa dall'imposibile crediamo in Dio crediamo in Dio sì tu sei la via quando una via non c'è crediamo che la tua voce è per in Dio crediamo in Dio crediamo in Dio crediamo in Dio sì è tempo di credere nell'impossibile parla la montagna e comandale di muoversi tu dici io credo tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu è compito tu dici io credo tu dici tu dici Grazie a tutti.